Sì, l'ho già instagrammato, non stanno a commentare. No, ma infatti, quello che stiamo facendo, oltre naturalmente a perdere la vostra esistenza dietro il girato, aiuto, è studiare il da farsi perché è signorile. Mamma, che spettacolo orrendo che sono, ma noi dobbiamo registrare. Aiuto, vabbè. Tra un po' è il nostro anniversario. Chi sa se registrava anche con le cuffie fino adesso. Boh, chi può dirlo. Tra un po' il nostro anniversario abbiamo pensato, visto che vorremmo farci uno o più tatuaggi, forse potremmo arrivare fino al nostro anniversario. Non è detto che ciò avvenga, onestamente, perché io sono un po' restless e impaziente. Chi l'avrebbe mai detto? Però, insomma, abbiamo varie idee e quella che piace di più è questa, che è una F, mescolate come il monogramma di Tolkien, più una serie di tatuaggi significativi per ciascuna. Però siamo indecise. Ne? Ma, dicono, indecise. Oddio, sul posto non fatti, quello sì. Sì. E poi c'è il dramma del terzo. Cioè, veramente non si può aspettare a fare il terzo. Il dramma è che ne abbiamo due card. Però due porta sfiga, no? E allora... No, io due mi rifiuto. Allora, senti che è leona. Senti come aggiriamo la sfiga. Voglio proprio sentirla. Allora, basta decidere il terzo posto dove farsi il prossimo tatuaggio. Senta decidere per farlo. E fai un puntino. Fai un puntino. Avevo pensato, sull'altro polso, una delle stelline di piccolo principe, però gialla. Cioè, la voglio colorata a quel punto. E la voglio esattamente come quella del piccolo principe. No, però forse è quel punto azzurra. Cioè, gialla. Beh, non so. Final Cut ti odio. Cos'è? La cosa più difficile in natura. Il sync. Che due coglioni. Io in più domani parto. Ok, it's so upsetting. Aspetta, c'è della Red Bull sulla telecamera. La casa è in condizioni? Secondo me è stata peggio. Ma perché non le colla in testa, scusate, con i capelli? Allora. Come? Tra l'altro sono i teltoni. Guarda, sono cieco. È la banana, aspetta. Ecco. Le fai in gravity anch'io. Guarda, guarda. Come il zuppo di caldo. Le fai in gravity. Dai, dai. Che ce l'hai fatto? No, la catastrofe è che sembra che mia madre ci venga a trovare. Non è una catastrofe. Lo è? No, sarà tutto a posto per allora. Ahà. Sono anal su tutto, lo sai. Come dice il poeta, se devi fare una cosa, falla anale. Falla anale. Ah, buon poeta. Ecco, no, voglio sottoporre una cosa al discreto pubblico del London Log. Ah? Ma se uno ti tatua con uno Sharpie, tutti quanti ci vedono dentro forti connotati sessuali? Perché io no. E lei sì. Lei... Aspetta. Ti prego, still! Gesù. Ma secondo me se uno prende un ago con uno Sharpie... Ma io non so tu quanto spingi quell'uomo, ma è un ago. È il simbolismo. Con un ago ti penetra e ti lascia un segno. Con un ago mi graffia e fa un disegnino. No, ti penetra nella carne e ti lascia un segno. Secondo me ha dei porti connotati sessuali. Secondo me no. Però sarò io. Connotazioni connotate. Ti cambio le connotazioni, sai? Vabbè. C'è da dire che i nostri tatuaggi sono piccoli, quindi non costeranno molto. Che è una cosa buona. Cioè, dobbiamo fare l'atticolatore di Dave Groove? Sì. Ma dopo il braccio l'ho fatto pro Prison Break. Appunto. Prison Break. Allora vi faccio kiss and kiss and kiss and kiss and kiss. Love and age. Love and age. Ma tu ti metteresti anche il led sotto pelle per vedere l'orologio? Mamma che figata quanto lo fai. Ah cazzo, se faccio il tatuaggio dopo il led dove lo metto? Perché è di time soon. Succederà eventuali? Sull'altro? No, io l'orologio ho fatto a sinistra. La vita in questi giorni comunque è difficile. Un po' difficile. Succederà eventualmente per colpa di Roger, ma... È colpa di Roger. Colpa di chi deve fare quelle cose. Che è un po' come se hai i jeans non è rape. Però... Come tutta la gang di me sono gangbangi. Allora non lo chiami senso senza amore. Solo perché ha cominciato a piacerti? È sempre rape. Questi spizzichi e bocconi di discorsi secondo me lead to so much... Misinterpretations. Allegations. Adesso che è figo, saremmo lì volete avere questo tatuaggio che mi hai disegnato tu. Sì figo. Come va la foresta? Dopalle. Sono finita di rirendere il mio vlog dell'anno scorso perché voglio vedere qual è il primo momento in cui mi hai citata. Eh? Anche a te ho restito parecchio. Did you now? Sì. Ha funzionato. Ho mai letto così indietro. Cosa dici? La prima volta che parlo in fronte è il 31 di luglio. E mi hai son rotti i coglioni per un anno sulle due settimane che sono passate? Ma che coraggio. Che coraggio. Guarda che fosse... Ripeto. Cosa? C'è voluto un po'... Cioè è ovvio che non potevo contarci. A luglio. Non potevo contarci. Magari ero anche già qua. E' già stata. No! No vabbè. Vabbè. Come potevo investire dei sentimenti e della speranza su di te quando tu eri circondata di gente che... Circondata guarda. Un'arena. Con i leoni. Non si respirava. No infatti non c'era posto per i sacchetti di sabbia. No. Infatti appunto quindi io mi restavo con i miei preziosissimi sacchetti. C'hai disegnato le facce sopra così puoi trattarli come amici? No. Erano molto protettili i miei confronti. E inammovibili nelle loro posizioni. Quando poi ho deciso che era tempo di gru apart l'abbiamo fatto. Anche lì, da un momento all'altro, eh, te ne liberi. Oh, I'm doing a great job moving on. No, se ti consola forse prima ho scritto una poesia di tempo e l'ho scritto il blog. Una poesia? Sì. Cioè, è un po' pretensio schiamare la roba che scrivo io poesia. Quindi forse sono tanti anni di sbagliato. Anche perché sicuramente adesso tu ti aspetterai che io non vada a cercarlo. No, ma non c'è sul blog. Fuck. Stati là. Cosa fai? Direi se potevo spruzzare in faccia la doll per far vedere cosa abbiamo, ma non credo. Vabbè, però non sopra così. Basta. Beh, è molto bella, soprattutto quando non è su George, ma sulla finestra. Vabbò, vado a gocciolare sul letto e a fare il cusciazzo, mi sa. Me. Che noia. Me. Ciao. 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 Ciao.